Mr Brevi, innanzitutto un giudizio sulle ultime due partite prima ovviamente di queste una o due settimane di sosta in calendario? Abbiamo affrontato due squadre forti, soprattutto il Lecce in un momento comunque di ottimo sia sotto il punto di vista dei risultati che del gioco. Direi che sono state due partite dove ci siamo guadagnati sul campo i due punti importanti, è chiaro riuscire a vincere è sicuramente diverso però due punti importanti perché ci permettono di rimanere a ridosso, rimanere lì un po' tutti insieme per vedere di poi ottenere il massimo da qui alla fine. Ovviamente adesso una o massimo due settimane di sosta per il caso Nocerina, poi si prenderà probabilmente ad Ascoli, in che condizioni ovviamente come affronterete queste settimane di sosta? Questa settimana abbiamo lavorato un pochettino sulla forza, abbiamo fatto dei richiami per cercare di avere comunque un ritorno già con la gara ipotizzando di giocare con la Nocerina. Abbiamo lavorato anche sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto di inserimenti di chi è arrivato da poco perché comunque hanno bisogno anche loro di entrare in determinati meccanismi, stiamo lavorando un po' su tutte queste situazioni per cercare chiaramente poi di ottenere il massimo la domenica.